Anche nella relazione del 2018 della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, illustrata al Parlamento dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini, il Polente Ligure e in particolare la provincia d'Imperia restano riferimento per l'Andrangheta. Nella relazione si legge infatti che la provincia d'Imperia vede qualificate proiezioni delle cosche Santaiti, Gioffre, Gallico, Piromalli, Mazzaferro, Alvaro e Pelle della provincia di Reggio Calabria, che fanno capo a un'unica articolazione criminale nella locale di Ventimiglia. La presenza dell'Andrangheta dell'Imperies era stata ufficialmente smascherata nel 2010, con l'ormai nota operazione La Svolta messa in atto dai carabinieri, che nel settembre 2017 aveva portato, come sottolinea sempre la DIA, la Cassazione al riconoscimento giudiziario in via definitiva della locale di Ventimiglia, peraltro funzionale anche al collegamento con le organizzazioni malavitose presenti nella vicina Francia. Nel marzo scorso, inoltre, sempre la Cassazione ha di fatto individuato come capi storici della cellula mafiosa alcuni esponenti delle cosche Piromalli e Mazzaferro della Piana di Gioia Tauro e altri delle cosche Alvaro di Sinopili e Pelle di San Luca. Diverse operazioni messe in atto dalla Polizia di Stato hanno poi di recente consentito di sequestrare del Tritolo e di evidenziare un giro di droga. Sempre la Polizia nel febbraio scorso ha inoltre svelato infiltrazioni di malavita siciliana a Sanremo nell'ambito delle sale per scommesse.